Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nel mio canale nel video di oggi continuo a parlare ancora di HTML così come vedete dal file che ho in visualizzazione vi faccio vedere l'uso di due tag veramente molto semplici parliamo del tag strong per effettuare il grassetto del testo e il tag che vi permette di scrivere in corsivo quindi prendere una parte di testo e taggarla come si suol dire in corsivo vi ricordo che all'interno di un tag possiamo mettere altri tag quindi annidare come si suol dire in informatica quindi prendiamo per esempio questa parte di testo, quindi c'è un'apertura di un tag e la chiusura qui vediamo c'è un break, quindi apertura del paragrafo e chiusura, ipotizziamo di voler mettere la parte di testo con il grassetto qui, ora vi faccio vedere come si presenta il testo in maniera basica, diciamo non c'è nessun grassetto quindi chiudiamo qui e ipotizziamo di voler mettere il grassetto in questa parte anzi, ipotizziamo di voler mettere il grassetto solamente la parola in informatica quindi apriamo una parentesi triangolare ci scriviamo strong la chiudiamo quindi prendiamo la parte di informatica cut e la mettiamo all'interno dello strong control v perfetto quindi all'interno del paragrafo p io voglio ho aperto un altro paragrafo un altro tag scusate e ci ho messo dentro la parola informatica sicuro ora vado a lanciare il go live sicuramente la parte informatica vedete risulta essere in grassetto veramente di una semplicità unica ipotizziamo invece di voler mettere sempre la parola informatica scriverla in corsivo vi basterà di mettere una i quindi apro con i chiudo con i all'interno del paragrafo sempre vado a lanciare il go live vedete un po' come si presenta la parola informatica è scritta in grassetto questi due tag sono largamente usati in html ora li abbiamo inseriti in maniera manuale quindi andando ad agire sul codice vi ricordo che ci sono dei cms che vi permettono l'editing di testi in maniera veramente molto semplice come avviene con un foglio word parlo per esempio dello sharp point parlo per esempio di wordpress dove ci sono dei contenitori che vengono chiamati html contenuto libro all'interno del quale voi potete andare ad editare qualsiasi testo tramite la barra di applicazione che si presenta come si presenta in word potete andare a fare delle variazioni all'interno del testo e il codice html verrà creato in maniera automatica perché il cms riesce ad interpretare tutto quello che sta all'interno del contenitore html libero e ve lo diciamo converte in codice codice sorgente invece qui noi stiamo andando ad agire sul codice sorgente per capire effettivamente i tag i tag a cosa servono e come devono essere utilizzati nel caso dei gms diciamo così all'avanguardia come lo sharp point o come il ho detto come il wordpress il codice sorgente alcune volte non viene nemmeno diciamo preso in considerazione da chi fa editing una cosa errata perché bisogna conoscere html nel momento in cui si fa editing su delle pagine web questa è una piccola parentesi che non c'entra niente con il corso noi in questo corso vedremo solamente i tag quindi codice sorgente e basta e niente tutto qua io vi saluto vi invito a mettere un bel like al mio video come sempre vi invito a iscrivere il mio canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati sempre sugli ultimi video che pubblico bene ciao e alla prossima